Avvocato Coletti, lei rappresenta Federico Pecorale, il 29enne che ha sparato domenica scorsa. Intanto questa mattina come è andato l'interrogatorio? Allora, questa mattina Federico Pecorale si è avvarso dalla facoltà di non rispondere. Pertanto dal punto di vista dell'istruttoria siamo fermi al punto di partenza perché non ha dato ulteriori elementi. Quindi questa scelta processuale si è resa necessaria perché come già ho preannunciato andremo su una richiesta di perizia psichiatrica per valutare se Federico al momento in cui ha commesso il fatto fosse capace di intendere di volere o altro. Cosa è successo questa mattina? Diceva prima nella conferenza con i colleghi che c'è stato un episodio in cui Federico non ha ricordato il nome. Sì, praticamente stamattina Federico ha dimostrato che nel momento in cui è sotto pressione va sostanzialmente in blocco. Tanto che alle domande di rito del giudice non ha ricordato a malapena il nome ma non ricordava assolutamente né il luogo di nascita, né la data di nascita, né la residenza. Questo va a valorare la mia ipotesi che ci siano dei problemi importanti. Però dopo che ha fatto quel gesto ha organizzato in maniera scientifica la fuga, viene difficile pensare a problemi. Il problema sa dove sta, è quello che cercavo proprio di mettere in evidenza adesso ma anche prima in conferenza stampa. Federico nel momento in cui è sotto pressione ha questi blocchi, poi successivamente secondo me probabilmente si è reso conto della gravità e a questo punto ha tentato di andare via. Però il problema è il momento in cui è stato commesso il fatto. Quindi lei vuole rivedere le immagini complete della sorveglianza? Sì, esatto. Adesso andrò a verificare se sono ancora in quest'ora, se sono presso la Procura della Repubblica perché io devo rivedere tutto l'evento dall'inizio, dal momento in cui Federico entra nel bar perché a leggere le dichiarazioni rese dal test che era presente il tutto è durato parecchio. Quindi secondo me qualcosa nel frattempo è successo. Lei chiede il rito abbreviato? Sì. Perché? Perché ritengo che la rito abbreviato, come lei ben sa, consente comunque uno sconto di pena. L'ultima, le chiedo perché ci stanno guardando gli amici di Gelfri, ci sta guardando la famiglia di Gelfri, l'avvocato Coletti che rappresenta Federico Pecorale, cosa si sente di dire? Mi sento di dire che da parte mia, della famiglia di Federico, c'è un forte senso di solidarietà, è un abbraccio grandissimo e c'è un augurio a che Gelfri possa tornare al più presto in forma e possa superare questo momento. Questo momento che secondo me viene vissuto come una specie di incubo.